Liberi.tv Riccardo Cristiano in compagnia di Roberto Shambu, autore del libro Voglio essere onironauto, come apprendere l'arte di sognare attraverso l'esercizio pittografico, edito da officine editoriali da Cleto. Chiediamo a Roberto cosa lo abbia spinto a scrivere questo libro e soprattutto di cosa si tratta. Nel libro sono presenti due elementi fondamentali che sono da una parte una scoperta del mondo astrale attraverso l'esperienza, quindi l'esperienza possibile per chiunque e dall'altra parte c'è un sistema, un tutorial per la realizzazione di un oggetto con disegno mandalico che diventa un totem personale da utilizzare per la meditazione, quindi per favorire l'insorgenza della lucidità durante il sogno. Il libro contiene nell'insieme queste due cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.